Ehi, ciao a tutti! Bentrovati! Benvenuti in questo nuovo appuntamento di Yo-Kai Watch 4. Prima di proseguire con l'ultima missione chiave, mi trovo qui al parchetto, perché vorrei parlare con questo ragazzo un po' sospetto. Insomma, indossa vestiti che non sembrano appropriati per l'epoca nella quale ci troviamo, vero? Ora, vediamo come l'hanno chiamato, perché l'hanno già aggiustato il nome di questo personaggio, Già mi hanno informato, perché alcuni, uno, si è lamentato, mi hanno detto, e quindi l'hanno cambiato. Vediamo però chi è. Ci aveva perso qualcosa? Paolo! Vabbè, dai! Lui si chiama Kitaro, e viene dal famosissimo anime e manga Gegegeno Kitaro, che sarebbe Kitaro del cimitero. Quindi il suo nome è Kitaro, però non lo sapevano e quindi l'hanno chiamato Paolo. Ma già l'hanno cambiato, quindi tranquilli. Nella prossima versione lo troverete cambiato. Ma voi siete degli yokai? Non posso credere di averne incontrati alcuni finalmente. Cosa riesce a vedere gli yokai? Ma non sembra avere uno yokai watch. Yokai watch? Che cos'è? Devo vedere gli spiriti senza yokai watch, ovviamente. Oh, ora capisco. Quindi grazie agli watch si possono vedere gli yokai? Beh, io sono Paolo e potrei anche io definirmi uno yokai. Tu saresti uno yokai. Eccolo, Gegege. Whisper, si può sapere che cosa ti prende? Scusate, ho realizzato solo una chissà questo ragazzo. Si dice che provenga da una tribù yokai ormai estinta. Che era famosa yokai world per aiutare chiunque fosse in difficoltà. Molto famosa. Fantastico, assomigli proprio a noi detective yokai. Come voi siete dei detective? Proprio così indaghiamo sui casi misteriosissimi legati agli yokai. Capisco. Beh, in tal caso... Mi aiutereste a trovare mio padre? Tuo padre, hai detto. Da quando siamo arrivati in questa città come sparito nel nulla. Voi però sembrate tipi a posto? Non è che mi la resto una mano? Beh, certo, siamo qui per questo. Al parco di Colle Fruviale abbiamo incontrato Paolo, giunto a Valdoro nella ricerca di suo padre. Ascoltiamo quello che ha a dirci. Martello mega, ah, quello di Whisper. Lascia fare a noi, amico. Dunque, tuo padre è che è Valdoro alto. Riesco a percepire ancora la sua presenza nei dintorni. Il problema è che continua a spostarsi senza sosta dal luogo all'altro. C'è anche la possibilità che l'abbiate visto anche voi e non ve ne siete accorti. Ok, ti scrivi, ce lo va, vai Whisper. Ah, l'occhio! Papà occhio, ovvero il padre del nostro Paolo. E come sarebbe a dire, papà occhio? Dalle vostre espressioni deduco che... Non l'abbiate mai incrociato il mio padre qui intorno. O sbaglio. Il padre mi ha insegnato a mettere sempre gli altri al primo posto. Per quanto mi riguarda non c'è fretta, io sono sempre qui. Va bene, troviamo il padre allora. Che dire, vi ringrazio di cuore. Beh, questo è il nostro compito. Secondo ti dove potrebbe essere andato? Sto avvertendo la sua aura provenire da un ristorante. Allora potrebbe essere a Val d'Oro Nord o in via d'acquisti. Da un ristorante. Ah, ecco che ora mi dà due posti. Mi sembrava strano. Allora direi di andare prima di qua, va. Ok, perché praticamente è qua vicino. Ok, andiamo un po'. Wow. No, è l'ammiraglio Nettonno. Però magari lui sa dirci dove ha visto quest'occhio magari. Oh, buongiorno. Sto cercando papà occhio. Sì, è passato da qua poco fa. Si è fermato per un boccone e poi è ripartito subito. Va bene. Sì, non mi interessa dei suoi viaggi, sinceramente. Voglio solo trovarlo. Ah, eccolo qui, va. Un ristorante. Questo è un negozietto. Ah, sono loro tre. Tre moschettieri. O i tre amicos. No, meglio moschettieri amicos. Non va bene. Ehi ragazzi, abbiamo visto uno yokai stranissimo. Aveva un aspetto così bizzarro. Sembrava una specie di occhio che si muoveva. Voi gli occhi ne sapete abbastanza, immagino. Stava cercando qualcosa di importante. Ma è scomparso. Se ne è andato facciamo tale paura. Allora, ad ogni modo non sappiamo dove possa essere andato. Ma faremo in modo di dare un'occhiata qui intorno, d'accordo? Va bene. Ok, ti risguardo. Poi, tutto lo yokai si chiama centocchi, però. Da solo no. Singolarmente no. Ma almeno c'è qualcuno che l'ha visto in giro. Poi abbiamo controllato entrambi i punti che ci hai segnalato. Magari è andato in un'altra città. No, lo scuderei. Koala è certo di sapere qual è la prossima meta. Sta cercando qualcosa di molto importante per lui. L'unico posto dove potrebbe trovare ciò che gli serve è la farmacia. Ah, certo. Lo stavo per suggerire, però mi sembrava assurdo. Ti riferisci a Collirio, vero? Ma allora perché è andato nei negozi... Nei ristoranti, scusami. E Whisper ci viene in soccorso, certamente. Perché lui sa. Recentemente è stato lanciato su un mercato il celebre Collirio Insomnia. Si dice che anche solo una goccia di quel Collirio faccia veri miracoli. Sicuramente anche tuo padre voleva comprarne uno. E anche se in questa epoca è un Collirio molto raro da reperire. Potrebbe essere andato a Yokei World del passato. Però l'ausibile spiegherebbe anche la perdita del suo segnale. State dicendo che voi siete in grado di viaggiare nel tempo? Esatto, tramite i portali dei mondi siamo liberi di raggiungere ogni epoca. Beh, in tal caso che direste di una bella gita nel passato? Viaggiare nel tempo può essere rischioso. Ti consiglio di rimanere qui, Paolo. Vabbè, è un po' strano. Loro fanno avanti e indietro come gli pare e piace, però Paolo... O Kitaro, no. Ah, da Insomnia, certamente. Eccomi, Insomnia! Guardate un po' di Collirio, purtroppo ho già saluto le scorte. Sapete che sta andando a ruba qui. State cercando un certo popo occhio? No, non conosco Yokei con quel nome. Ah, però tiene una boccetta di Collirio di riserva. Ogni cosa ha un prezzo. Vi darò questo Collirio solo se riuscirete a sconfiggermi in battaglia. Sono pur sempre uno Yokei di rango S. Certo che sono pronta. E magari riusciamo a prendere anche una delle sue sfere, chi lo sa. Magari poi diventa anche... Spidabile più volte. Guarda che belli Yokei. Fanno tutto loro, fanno. Eccola! Vai! Pistala, pistala! Con la mia nuova abilità! Ma non dura molto. Non dura molto la mia abilità, perché? Ah, ci vuole tempo a ricaricarla. Dai su, pensateci voi amici miei. Attaccatela voi, attaccatela. È mobilizzata! Ora, ora! Ah, ok. Mi curano anche, mi curano. E questo cosa? La Corsa Ninja? Cosa fa? Non ho capito. La bomba è la cura magica. Sì, ho sbloccato un po' di abilità, perché... Bene. Ah, mi ha preso. Forse. Vai, Tree! Sì, però devo prenderla. Aspetta, voglio ricaricarmi un attimo. Ah, le stelle ninja! Perché Corsa? Non capisco perché Corsa. Voglio vedere un attimo una cosa qui. Niente, è scomparso. Boh. Niente, me la sono presa molto con calma, perché... Stavo un attimo studiando le nuove abilità del mio Yo-Kai Watch. Ho sbloccato diverse abilità nuove, quindi volevo provarle. Però... Somma. Somma. Mi avete sconfitto davvero, complimenti ragazzi. Come promesso, ecco, l'edizione è limitata. Quindi questo non si apre, si tiene dentro la scatola. Del collirio. Collirio insomnia più. Bene, ora è tempo che vada. Buona fortuna con la vostra ricerca. Possiamo rispidarti? Non possiamo. Eccoci qua, siamo arrivati. Questo noi l'abbiamo visto, però. Eh no, a te ti abbiamo visto, caro, eh. Eh, vabbè. Ti devo dire. L'abbiamo visto sopra una macchinetta, sopra... UFO, Gru, come la chiamate voi? Papà, finalmente ti ho ritrovato. Figlio mio, che sollievo! Ma dove ti hai ricacciato? Ti ho cercato lappertutto. Hai ragione, mi dispiace aver tirato tutta questa preoccupazione. Scusami. Hai visto, Paolo? Alla fine ci sei riuscito. Ragazzi, grazie mille. Senza di voi non ce l'avrei mai fatta. Ma allora che cosa ci fanno qui? Questi sono gli occhi che mi hanno aiutato nella ricerca di una cosa. Sto parlando dell'unico e inimitabile Collirio Insomnia. L'edizione è limitata, ovviamente. Purtroppo è un prodotto molto difficile da ottenere. L'ho cercato ovunque, ma senza successo. Forse dovrei rassegnarmi. Papà. Forza, Paolo. Vorrei ritornare a casa. Ehi, aspettate un attimo. Non eravate più per il Collirio? Sì, ma... No, non è possibile. E invece è proprio così. Ta-da! Eh, va bene. Oh, che bella visuale. Oh, ma adesso capisco tutto. Ora devo vedere tanti i miei Collirio? Non mi direi Insomnia che ti piace. Lei ha un occhio solo, lui ha un occhio. Fanno due occhi insieme, no? Può intendersi di Collirio, visto che ha un occhio solo. Se le si infiamma quello, eh, stiamo freschi. Oh, ma certo, è un vero pi... Cosa? Insomnia? Ciao! Per me è un piacere riconoscerti. Ma un attimo! Mi hai dato l'edizione Z! Il Collirio Insomnia Z cos'è? Il Dragon Ball? È Collirio ancora più raro di quella un'edizione limitata! Pazzesco! Sono quasi commosso! Perché hai voluto consegnare questa edizione? So quanto umani i Yokai... Sì, però... So quanto umani i Yokai mi hanno aiutato. Considerate una ricompensa. Mi chiedo cosa abbia fatto. Cosa? Papà occhio sta brillando! Quella luce è davvero splendida! Secondo me ha fatto puff puff, non... Non il Collirio. Questo era un puff puff in piena regola. Quindi è questa la potenza del Collirio Z! Ma non sembra anche a voi che sia un po' esagerato? Niente affatto. Come ho detto prima, si tratta di un Collirio miracoloso! Esatto! Che prodotto straordinario! Il Collirio Z! Wow! Non avevo mai provato nulla di simile prima d'ora! È tutto così magico! Vista ripristinata! Soddisfatto? Bene! Sono contenta che questa piccola sorpresa mi sia piaciuta! Ma scherzare! Da oggi in poi anche io sarò il tuo cliente a vita! Perché un pesce dovrebbe avere problemi oculari? Boh! Questo è il jingle di Kitaro. Palesemente. Buoni punti esperienza. Accogliere insomnia. E che cosa cura per accogliere insomnia? Ah, niente, così è un semplice oggetto chiave. Manca solo lezioni di anatomia. Alla scuola elementare di Valdaro Alta si aggirano gli okai davvero molto bizzarro. E se fosse una nostra vecchia conoscenza? Eh, mi sa proprio di sì. Dunque, lei cambia il tempo, però non mi attiva la visione comunque. Ma non è importanza. Buonasera, che cosa ci fa più a quest'ora di notte? Beh, potete farvi la stessa domanda. Sono qui per indagare su un fatto. Avete mai sentito parlare di una certa lezione notturna di anatomia? Modestamente, sono un grande fan di lezioni notturne. Purtroppo non ho ottenuto i risultati sperati. È troppo presto ancora. Sei solo da elementari. Nei tuoi amici dove sono? Beh, il fatto è che da una certa ora non li ho visti più. A quest'ora avremmo già dovuto aver finito. E invece sono spariti nel nulla. Ho anche provato a chiamarli uno ad uno al telefono, ma niente da fare. Lascia fare a noi. Sul serio, grazie mille allora. Dunque, mi ero accordato con tre amici. Il primo era andato a controllare il cortile della scuola. La seconda verso il recinto dei conigli. La terza invece è totalmente imprevedibile. Potrebbe essere ovunque. Capisco. Grazie a voi ragazzi. Tenete mai aggiornato, mi raccomando. Andiamo? Chi è qua? Cosa si tiene qui? Il recinto dei conigli. Ah, ma guarda un po'. Magari, galline. Cinque doc soda ancora? Eh, chi va là? Oh, che spavento. Pensavo fosse una fantasma. Una fantasma? Certo, non devi essermi completamente dimenticata di tutto il resto. Uno dei miei amici mi sta cercando. Caspita, è vero. Guardate quanti chiamati perse. Lo raggiungo subito. Ma se sei scema allora? Chi è qua, quest'altro debosciato? Sì, mo' vengo a piatti, a calci però. Dove sta l'entrata qua? Dove sta sto pazzo furioso? Eccolo qua. Eh, buongiorno? E voi chi siete? Non vedete che sono impegnato? A fare che? Vabbè, si stava investigando. Il campo da baseball mi fa questo effetto. Che? Di farti fermare nel mezzo del nulla, come un palo ficcato? Niente, è venuto qui per altri motivi slegati dal baseball. Bene, siamo riusciti a trovarne già due su tre. Però non ci resta che trovare la terza persona. Imprevedibile, eh? Forse è tornata l'entrata principale. Andiamoci subito. A quanto pare è così. Fate? No, chi è? Un'altra ragazza. Ok, meno male. No, meno male. No, è venuta malissimo. Ehi ragazzi, mi sembrano scherzi da fare questi. Scherzi? Ma di che stai parlando, scusa? Come sarebbe a dire? Avete una bella faccia tosta a chiedermelo. Noi ricordate poco fa i vicini campi da tennis? Tutte quelle domande? Ne ricordo ne in particolare. Qual è il tuo organo preferito? Ma che non sono stato io? Vi stavo aspettando qui davanti. Cosa? Quindi non eravate voi a farmi tutte quelle domande? Sai, magari anche la voce era un po' diversa da loro, eh? No, non è per dire. Ragazzi, io direi di ritorno a cena a casa. Ben detto. Mi sarei ad avere un po' paura anch'io, sinceramente. Sì, credo che abbiate ragione. Bene, allora andiamo. A domani, ragazzi. Fermi, dove andate? Ah, vengo con voi! No. Ma chi era che l'ha detto? Scusa. Ma chi è che ha parlato? Qualcosa non mi convince in questa storia. Sono d'accordo. E credo di sapere che ci sia dietro tutto questo. Forse dovremmo controllare quei campi da tennis, che ne dite? Un attimo, state dicendo che si tratta di uno yokai? Per il momento è stata un'ipotesi. Però, andiamo comunque a controllare. Summer e Katie devono fare da esche perché quello yokai appare solo davanti alle ragazze. Campata per aria. Solo perché c'era una ragazza lì a campo da tennis non vuol dire che quello appaia solo con le ragazze, però... Ah, era girato! Mi sembrava che gli mancasse un pezzo di faccia. Dico, che è successo a questo poverino? È nato comico. Ti va bene, Summer? Non preferisci Katie. Tu, ragazzina, qual è il tuo organo preferito? Rispondi! Il mio organo preferito? L'intestino, perché serve digerirlo. L'intestino, credo. Sì, ottima risposta! Ecco a te! Ok. No, 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 che diamini è, riprendetelo subito! È perché sono uno yokai, vero? Sì, deve essere così. Scusa, ma non ti capisco. Perché non piaccio mai le ragazze? Cos'ho che non va! Ma ora basta! Ho sofferto abbastanza! Non si ricorda di noi, probabilmente, vero? Boh! Allora, vediamo un po' che tecniche nuove ho con lei. Tuvola protettrice ultra forza. Ok, quattro colpi erate, quindi non è andato. Difesa totale. Sì, fa meno male. Tutta la protettrice o non serve o devo... Ecco, cosa che devo... Vediamo un po' come funziona. Ah, ha uno yokai in particolare, da? Ok. Tengo ultra forza, va. Andiamo. Mamma mia! Bravo, davvero, comunque. Grazie. Perché Jack in aiuto? A che ha servito farlo morire? A quello è servito, perché mi pare che... Comunque, Jack... Ah, ti sei trasformato, ok. Ma va bene, eh. Mamma mia quanto c'è il lento. Però è forte. Ho sbagliato, io ho sbagliato. E dai. Ah, ok. Bene. Ho anche ascensione di... Goro? No, come lo si chiamava? Io non mi ricordo come si chiama quello yokai. Non mi ricordo in italiano come si chiama, ma neanche in giapponese. Comunque sia, ho attivato diverse abilità degli yokai watch e di tutti gli yokai watch. Quindi ora con tutti posso fare altre robine fantastiche. E ora mi diverto a provarlo, ovviamente. Ehi, va tutto bene? Per quelli motivi è nato comico, cioè attaccati nuovamente. Aspettate, sembra che stia per dire qualcosa. Ascoltiamolo. Cuore. Il mio cuore. Cuore? Shinzo? Potrebbe vogliare intendere il suo cuore di plastica? Sta dicendo che l'ha perso nella battaglia contro di noi? Il mio cuore. Credo che dovremmo andare a recuperare il suo cuore. Ma non possiamo lasciarlo qui? E se ci attaccassi un'altra volta? Tranquillo, non credo che abbia abbastanza forze per sfidarci ancora. Beh, immagino di no. Davanti agli occhi. Beh, anche perché dove voleva stare. Ma quello è il mio cuore. Oh, di colpo mi sento già meglio. Ma non glielo do, lo lascio lì per terra steso. Come un salame. Mi ringrazio per avermi restituito il mio cuore, umani. Si può sapere che ti ha preso prima? È già la seconda volta. Esatto. Forse dovresti darci qualche spiegazione, non credi? Non so cosa mi si è preso, dico davvero. Io vorrei solo che una ragazza si interessasse a me. Tutto qui. È davvero così sbagliato avere un disegnere come questo? No, però. È molto strano che addirnosi a un modello anatomico di una scuola. E poi non è certo regalando organi di plastica che si conquista una ragazza. A meno che non abbia dei fettici particolari. Dicono anche tu, Katie. Katie è la più schifata di tutti. Il mio povero cuore di plastica non può reggere queste cose. Ma dovrò farci l'abitudine. Anatomico non si sposerà mai, d'accordo. Anatomico, per caso sei stato colpito da qualche maledizione? Sì, in effetti è vero. È successo tutto una sera. Stavo guardando il cielo pensando a Melissa quando all'improvviso... Diccelo. Beh, è molto semplice. Ho visto il sole nero. Il sole nero, hai detto? Quindi è ancora opera sua. Non lo sapevo. Ti ricordi altro, per caso? Purtroppo no. La mia mente non si è ancora ripresa da quel giorno. Immagino. In ogni caso mi chiedo scusa per tutti i problemi che vi ho causato. E grazie anche per aver ritrovato il mio cuore, ovviamente. Non c'è di che. Anzi, ho un'idea ancora migliore. Ecco voi. Ah, non ci dà la chiave? Volevo solo chiedervi di farmi incontrare Melissa. Sarò anche uno yokai, ma non do la mia chiave a ogni umano che incontro. Dall'annico no. No, siamo amici. Questo tizio è insopportabile. È buona. È buona armatura del samurai. È un modo per ringraziarvi dell'aiuto. Spero mi piaccia. Prometto che non vi causerò altri guai. Adesso, se volete scusarmi, vado a farmi bello per questa sera. Boh. Wow, che yokai bizzarro. Però abbiamo risolto tutti e tre i misteri di questo capitolo. Bene, abbiamo risolto altri tre i misteri. Stiamo migliorando a vista d'occhio. I miei complimenti, Jack. Hai usato tutto il tuo yokai watch impeccabilmente. Dici sul serio? Beh, se ci sono riuscito, il merito è solo vostro, amici. In ogni caso, queste trasformazioni erano piuttosto strane, non trovate? Gli yokai incantati avevano un'aura di oscura intorno a loro. Ma non mi sembrava che ce l'avesse nato comico. È tutto iniziato a causa del sole nero. Questa è la frase che ripetevano tutti. E se il mio sogno dovesse avvelarsi? Voglio dire, sembrava così reale. Nel sogno dicevo che il sole nero aveva rubato tutto, quindi... Non agitarti, Summer. È meglio non giungere a conclusione affrettata. Cerca di stare tranquilla, d'accordo? Vabbè. Avete ragione, ragazzi, vi chiedo scusa. Però, ancora non sappiamo da dove abbiano origine questi incanti. Beh. Oh, forse Perla ha già trovato la pergamena che cercate. Sì, forse dovremmo andare nel passato a chiedere di aggiornarci. Ok, quindi nel prossimo episodio andremo a parlare con Perla. Ci sono alcune missioni, però, in realtà, che vorrei fare prima di finire del tutto il capitolo. Con questa probabilmente prendiamo Sapiona anche. E la sfida del Valletto. Beh, ce ne sono diverse da fare, insomma. Però lo vedrò nel prossimo episodio. Ad ogni modo, amici, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti rincutili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.